Con l'Ucraina e l'energia al centro del discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, Euronews ha chiesto alla Presidente della Commissione se sia possibile introdurre un tetto massimo per il prezzo del gas e quando i consumatori possano attenderne i benefici. Non dobbiamo mai dimenticare che Putin sta usando il gas come un'arma e quindi ci troviamo in questa crisi energetica. Come Unione Europea abbiamo già fatto molto e questo ha attutito buona parte degli effetti. Per esempio lo stoccaggio congiunto, ora siamo all'84%. È un dato molto positivo e abbiamo diversificato il nostro approvvigionamento dalla Russia verso fornitori affidabili come la Norvegia o gli Stati Uniti. Lo si può constatare da due dati. All'inizio della guerra il 40% del gas importato era russo, oggi siamo scesi al 9%. Quindi c'è stata una drastica diminuzione del gas russo che abbiamo compensato con altri fornitori. Ora il passo che stiamo facendo è dare agli Stati membri la capacità di intervento finanziario per raggiungere l'obiettivo. Sosteniamo le famiglie e le imprese vulnerabili. Questo è il prossimo passo che il Consiglio e il Parlamento stanno compiendo. Stiamo inoltre discutendo il lavoro sui massimali di prezzo, in quanto stiamo valutando cosa si può fare per abbassare il prezzo del gas. Con la Russia una fornitura completamente inaffidabile è la situazione chiara, ma con altri come ad esempio i nostri amici norvegesi è positivo aver iniziato a negoziare e a discutere su come possiamo avere un approccio comune per abbassare stabilmente i prezzi del gas, perché definiscono molto il mercato dell'elettricità. E infine, ma non meno importante, la grande riforma del mercato dell'elettricità è il prossimo passo da compiere. Abbiamo l'esperienza di un'enorme solidarietà europea. Vediamo ad esempio che tutti gli Stati membri hanno deciso di avere uno stoccaggio comune. Volevamo che in ottobre lo stoccaggio arrivasse all'80%, ma siamo più avanti perché lavoriamo tutti insieme. Abbiamo detto che la solidarietà è già all'84% in questo momento. Questo ci aiuterà a passare un inverno sicuro. Vediamo un'enorme collaborazione, in quanto il gas che riceviamo da fornitori affidabili, come gli Stati Uniti o la Norvegia, arriva dove è necessario. E tutti abbiamo capito che abbiamo lavorato insieme in questa crisi energetica perché siamo più solidali. Più abbiamo una situazione stabile all'interno dell'Unione Europea, più ogni Stato membro ne trae beneficio. Si farà in tempo? Perché si pone la stessa domanda. Non sarà in ritardo? Adesso, sul tavolo del Consiglio e del Parlamento, c'è la proposta per dare capacità di intervento finanziario agli Stati membri, ai governi, in modo che possano sostenere le famiglie e le imprese vulnerabili. Si tratta di circa 140 miliardi di euro che saranno investiti in questo senso. Grazie. 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 Grazie.